Ami le sigle dei cartoon animati? Vuoi passare una serata guturiosa e gagliarda? Se sì, devi assolutamente andare venerdì 20 maggio alla Luganda Blues, dove potrai ascoltare la gagliarda cartoon cover band romana Bim Boom Band. Il concerto comincerà alle ore 21 e 30 e da quel momento potremmo ascoltare le migliori sigle dei cartoon animati dagli anni 70 fino ad oggi e non solo. Dovete tenere ben presente che se volete passare una serata gagliarda e guturiosa allo stesso tempo all'insegna delle migliori sigle dei cartoon animati, dovete ricordarvi che venerdì 20 maggio alla Luganda Blues, a partire dalle ore 21 e 30, suonerà la gagliarda cartoon cover band romana Bim Boom Band. E se manchi, sei un allocco.